Salve, sono Paolo Benini, sono laureato in medicina, mi sono laureato in questa università nel 1979, qui mi sono anche specializzato in psicologia clinica e sempre qui sono docente di psicologia clinica. Da anni ci stiamo occupando di studenti universitari garantendo loro un servizio che riguarda l'assistenza più prettamente rivolta al disagio psicologico e da un anno, siccome io mi occupo a vari livelli di performance e quindi di ottimizzazione delle performance, abbiamo iniziato ad occuparci anche delle difficoltà che gli studenti possono incontrare specificatamente nel portare avanti il programma di esami. Ci sono varie tecniche che possono essere usate, dalla definizione chiara degli obiettivi, alle mnemotecniche, il sapere come si usano le mappe mentali e come si prendono appunti e sono tutte cose che sono a vostra disposizione in questa università. È possibile seguire gli studenti in video, così come vengono seguiti personalmente e se ci saranno i numeri sufficienti sarà possibile fare anche dei gruppi. Credo che questa opportunità che l'Università di Siena offre vada colta e vi aspettiamo numerosi.